Ciao, mi chiamo Lorenzo Formichetti, vengo in questa scuola, scuola musicale Giuseppe Conte da due anni e oggi vi farò sentire due brani. Il primo è quello di Schumann e è intitolato Da paesi e uomini sconosciuti che ha contenuto nelle scene infantile. Spero vi piace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.